quarto torneo Win & Skill gioco il quarto turno contro il fortissimo giocatore norvegese Dagfin Snareim ok iniziamo ottimo doppio uno sembra un po' rischiosa però sicuramente sa quello che fa 5-1 direi che colpisco è splitto fa casa 5 peccato 4-1 devo giocare questa casa 4 doppio 2 potrei fare casa 3 ma penso che sia preferibile colpire sono in vantaggio in corsa di 11 potrebbe aver senso venire avanti ma preferisco giocare questa e questa devo cercare di fare casa 6 sarebbe importantissimo sarebbe importante anche ancorarmi 6-4 allora sicuramente devo fare questa casa questo secondo me è un cubo questo secondo me è un cubo si diciamo che è un cubo 13 pip di vantaggio ho molte possibilità di colpire allora il 3 è sicuro e il 6 potrei colpire anche sulla casa 1 ma preferisco giocare questa doppio 2 danza 6-3 non riesco a coprire accidenti giochiamo questa e questa danza danza ancora eccezionale qui l'1 è sicuro e il 3 diciamo che devo giocare questa tira adesso il 6 per fortuna doppio 2 potrei fare casa 3 ma penso che sia meglio venire avanti e giocare questa mi colpisce accidenti non ci voleva però ricolpisco e direi vengo avanti io gioco questa sperando che non tiri un 2 doppio 6 riesce a portare in salvo una pedina direi 17-11 e 16-4 direi 17-11 e 16-4 direi 17-11 e 16-4 direi 17-11 e 16-4 però sono sempre nettamente in vantaggio in corsa e il suo straggler sulla casa 24 fa paura e il suo straggler e il suo straggler sulla classe No, direi che non devo colpire, giochiamo questa. Qui devo assolutamente, beh assolutamente, non l'ha fatta. 4-2, non è un bel tiro perché non posso portare avanti le mie pedine, potrei colpire ma no, preferisco giocare questa e questa. Qui deve venire avanti sul 22, sulla casa 22, casa in testa, perfetto, eccezionale. Adesso veniamo avanti. Eccezionale, colpisco. Non mi conviene colpire sull'1, no, io direi che gioco questa. Va a casa, accidenti. 3-2, devo sperare di tirare... Ah beh, questa non mi sembra troppo rischiosa. 6-2 5-1 Adesso la sua casa fa meno paura. Andrei dal 6-2 Oppure questa. 5-4 Diciamo che devo giocare questa e questa. Speriamo di chiudere casa. No. Mi scopro, però per fortuna non mi colpisce. Dovrebbe riuscire ad evitare il Gaemon. Diciamo che c'è riuscito. Andiamo 2-0 Ho pensato 2 minuti. 2-0 6-5 E' standard. Fa l'ancora avanzata. Giocchiamo questa. Barpoint. Barpoint. Qui diciamo che devo... Potrei far casa o scappare. Provo a scappare. Non mi colpisce. Ottimo. Allora 4-2 Diciamo che questa non mi dispiace. Altro 4-2 Ottimo. Doppio 5 per lui. Vantaggio di 15 Vantaggio di 7 Per cui non ha ancora il cubo. Direi che possiamo giocare questa. Il vantaggio di 7 E Cuba Vabbè Non stiamo a pensare Devo ovviamente accettare Mi sembra molto strano Ok che ho il pilone sul 6 però Non stiamo a pensare Non stiamo a pensare Non stiamo a pensare E questa è la mia Non stiamo a pensare 4,3 direi che va bene questa in vantaggio di 12 ottimo 6,4 ho un vantaggio di 9 doppio 3 non è male no direi questa vantaggio di 5 per lui direi che il game è andato qui mi servirebbe un 6,5 6,1 e qui vabbè un doppio nel 4 in su ma non arriva siamo due pari però ho giocato velocemente questo game 4,2 direi che facciamo casa non tira un 4 ottimo 4,2 perfetto però si ancora colpisco mi ricolpisce preferisce fare casa allora 6,1 direi che devo giocare questa e questa ho un bel vantaggio in corsa ho lo straggler da portare in sicurezza però la struttura la struttura è buona e la sua struttura non fa particolarmente paura doppio 6 direi che devo giocare questa fermi tutti fermi tutti non è detto io giocherei questa e questa mi colpisce mi colpisce direi 5 e 1 qui deve fare il bar point e colpirmi sulla casa 5 colpisco ottimo allora questo direi che è un double ho troppe possibilità di fare una casa oppure di venire avanti con la pedina ok 3,2 ho pensato 2 minuti e mezzo quindi direi che va bene ok 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 no doppio 6 fa casa 5 devo sperare di colpire no rientro solo con una pedina doppio 4 è ottimo per lui secondo me deve far casa e far casa 20 e qui potrebbe essere double pass no vabbè dopo il 2 1 però mi colpisce ancora accidenti devo sperare di ancorarmi niente danzo questo secondo me è un pass sì non mi piace per niente 3 pari allora 5 e 3 colpiamo danza ottimo doppio 1 eccezionale allora questo per me è un double 6-5 potrei fare casa 1 però siamo sicuri perché ho solo 8 pedine io giocherei questa e questa 4 e 1 sicuramente questa abbiamo di nuovo il problema dello straggler però la mia ancora la mia il mio prime è molto forte ecco io giocherei questa oppure colpire sulla casa 1 secondo me è meglio colpire sulla casa 1 spero che non invece rientra con l'1 4 e 5 colpisco sì secondo me sì secondo me devo colpire danza 3-2 copro danza ancora doppio 5 allora direi 1-2 e qui direi 3 e 4 e qui direi 3 e 4 doppio 3 direi che devo cercare di scappare non mi colpisce eccezionale allora 5 e 2 direi questa e questa ho 50 pip di vantaggio adesso ho solo il problema di ok risolto il problema ok doppio 2 2 direi 3 e 4 doppio 2 a questo punto giocherei questa senza esitazioni 5 e 3 no forse 5 a 3 non devo tirare 3 6 e 5 direi 6 e 5 diciamo che il daemon non c'è però non ho non rischio il game direi 6 e 4 direi 5 e 2 5 e 4 e allora 4 e 2 direi che è questa 6 e 1 6 e 1 vabbè diciamo che dovrei vincere il game ahia 6 e 6 qualche problemino me lo crea ok abbiamo pensato 4 minuti sono in vantaggio 5 e 3 sul 5 e 2 il 4 e 1 giochiamo così doppio 5 ottimo tiro questo è un double direi di no qui devo colpire questo non è ancora un double secondo me doppio 4 eccezionale sicuramente devo giocare questa questa è sicura e porterei avanti anche la seconda pedina mi colpisce accidenti è un double secondo me è un double accidenti non rientro per fortuna non rientra neanche lui allora direi 1 e 2 si ancora non ci voleva però ho la possibilità di colpire la terza pedina non la colpisco direi che devo venire avanti e il 4 e il 4 questa è rischiosa perché posso colpire sul 6 però probabilmente giocherei questa 2 e 1 colpisco danza perfetto direi 4 però il 2 non so bene cosa giocare potrebbe essere un 4-2 danza ancora 5-5 allora direi un 5-2-5 il terzo è qui il quarto potrebbe essere sulla casa 6 o sulla casa 4 secondo me devo venire qui sperando che non mi tiri un 6-5 danza ancora doppio 5-5 non è bello direi che dobbiamo giocare questa 5-4 devo sperare di uscire con lo straggler 3-6 ok non mi colpisce eccezionale allora 6-5 allora 6-5 direi 3-2 3-2 non è bello devo giocare questa e questa non ci sono altre possibilità 6-4 6-4 obbligata spero che non ti di un 5 tira invece il 5 e qui ha un redouble pass questo per me è un drop ok 5 pari 7 minuti e mezzo devo essere un po' più veloce 4-3 facciamo casa 5-1 potrei fare il double tiger 4-6 ho 9 pedina in zona d'attacco preferisco fare casa questo potrebbe essere un double si io ho cubo probabilmente è un po' anticipato però ho diverse possibilità interessanti ecco qua giochiamo il double tiger direi che è andata bene 6-3 si ancora accidenti qui veniamo avanti qui sono enormemente in vantaggio in corsa devo provare a scappare ottimo tiro per lui 1-6 proviamo a scappare o invece giochiamo questa direi questa doppio 4 per lui mi sarebbe convenuto scappare vabbè mi servirebbe un 1 assolutamente 6-2 devo provare a scappare non mi colpisce 10 pip di vantaggio allora mi colpisce solo col 6-6 per cui non mi devo preoccupare 6-5 vabbè giochiamo questa non voglio smontare la casa sono in vantaggio solo di 7 allora se vado qui 6-4 6-4 6-5 non cambia eh no 6-4 e 5-5 vabbè invece cambia però allora 6-1 però quello che cambia è che adesso posso portarlo in salvo 9-8 pip di vantaggio 9-8 pip di vantaggio io direi che gioco io direi che gioco questa e questa molto rischiosa 5-4 potrei chiudere casa ma preferisco giocare questa 6-5 direi che è obbligata 2-2 mi è venuto un accidente perché con l'8 avrebbe chiuso avrebbe colpito diciamo che dovrei vincere il game 6 minuti e mezzo andiamo 7-5 quindi mi mancano 6 punti e ho 6 minuti e mezzo va bene direi che va abbastanza bene doppio 4 direi che devo fare casa ho parecchie tiri che colpiscono mia posizione è decisamente buona sono in vantaggio in corsa di 7 pip allora siamo 6 away 8 away e 6,5 facciamo l'ancora avanzata corsa all'incirca pari la struttura è molto buona ma penso che il double sia prematuro allora 6,3 diciamo che devo giocare questa e questa non mi sembra il caso di slottare mi sembra ancora prematuro il double allora 6,1 secondo me devo colpire si colpisco non mi ricolpisce direi che a questo punto ho un double o un double no non me la sento accidenti mi ha colpito devo sperare di rientrare subito 3,5 colpisco o provo a scappare direi che provo a scappare perfetto adesso lui si ancora non cubo ancora perché non è per niente detto che ho 15 pip di vantaggio ma non è detto che porti in salvo la pedina infatti non la porto in salvo allora se vengo avanti mi colpisce anche col 6,4 e 5,5 quindi 15 tiri no 14 tiri io gioco questa ottimo non mi ha colpito 13 tiri di vantaggio non sono tantissimi allora 4 sicuramente questa l'1 colpisco o no? secondo me no allora adesso ho 13 pip di vantaggio questo è assolutamente un double e direi anche un take il 5 è questo il 3 è questo ottimo ottimo doppio 1 per lui ottimo doppio 2 per me doppio 4 per lui sono in vantaggio solo di 6 però il doppio 3 non è per niente male 4,2,4,1,2,1,2,2,1,1,4,4 tantissimi tiri ottimi 5,2 vabbè giochiamo questa sicuramente non devo colpire perché ho un ottimo vantaggio in corsa 3,1 il vantaggio in corsa sta diminuendo sta diminuendo a vista d'occhio però questo 6,5 è un buon tiro 0,6 6,5 eccezionale 5 minuti e 13 ok 9,5 siamo 4 away 8 away quindi il mio take point è 22 il suo è 25 io faccio casa l'ancora è troppo importante doppio 4 accidenti 6,1 direi che giochiamo questa sono indietro in corsa di 9 ma comunque ho una bella ancora 2,1 non è un gran tiro accontentiamoci io giocherei questa direi 9,8 9,6 non mi dispiace no non lascerei il blot allora 6,4 ok sono indietro di 9 6,4 lasciamo il tiro no io giocherei questa sono avanti in corsa sono avanti in corsa di 9 dopo il suo tiro tiro un 1 direi che devo colpire non c'è dubbio vediamo che non tiri un 2 perfetto danza qui il cubo è prematuro abbandoniamo l'ancora secondo me è il momento opportuno non mi rientra ma non mi colpisce per fortuna 10 pip di vantaggio devo cubare mi sembra presto mi colpisce accidenti però è rischiosissimo per lui mi colpisce potrebbe anche essere un cubo 4 minuti e mezzo allora 7 pip io non cubo ancora direi 5 e il 3 potrebbe essere 7,4 oppure questa direi questa doppio 4 adesso la corsa è pari 5,3 direi questa e questa doppio 2 diciamo che ho il vantaggio del tiro 6,3 diciamo che veniamo avanti 2 pip di vantaggio troppo poco assolutamente per cubare 5 pip ancora non cubo allora 6,3 8 pip di vantaggio qui devo cubare 5,2 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 6,3 5,2 ottimo porto fuori 4 pedine 2,1 2,1 invece bruttino 6,5 non ci voleva altro 2,1 accidenti però 6,5 compensa sono in netto vantaggio 3,6 7 pedine per lui da portare fuori 5 per me e ho il tiro doppio doppio 6 esagerato ok siamo 2 2 8 8 4 minuti 2 8 8 8 8 il mio il suo take point è il 20 il mio il 21 1 6,5 assolutamente questa speriamo di fare casa in testa doppio 4 assolutamente sì facciamo casa 6,5 vabbè questa è questa 3,1 non ci voleva devo cercare di scappare ok proviamo mi colpisce accidenti allora sono in netto vantaggio in corsa però secondo me devo provare a colpire speriamo sto duplicando l'uno lui cuba qui devo accettare mi colpisce no si ancora secondo me deve colpire troppo indietro in corsa 4 e 6 ricolpisco mi colpisce ancora accidenti però 3 e 2 direi che colpisco o mi ancoro io preferisco colpire ancora mi va molto bene 5,3 purtroppo non posso uscire il 5 direi che obbligato il 3 pure quasi 4 minuti 6 5 prova a venire avanti il controllo completo dell'outfield a me basta vincere il game per vincere il match l'ideale sarebbe un 6 5 o poco meno di 4 minuti 4 2 direi che giochiamo cerchiamo di non avere blotti in casa 2 6 colpisco ottimo e mi va benissimo aver coperto il blotto 3 e 5 allora 3 e 5 posso venire avanti ma direi che è meglio colpire ancora e 5 2 non è un grandissimo tiro e non è un grandissimo Io giocherei questa e questa, mi colpisce, danzo, a casa, devo sperare di rientrare subito. 2 e 5, direi che è eccezionale, 3 minuti e mezzo, 6-3, direi che posto che non posso portare in salvo la pedina facciamo casa in testa, danza, eccezionale, allora qui direi che duplichiamo il 3 allora qui il 6 è sicuro, l'1 non so se mi convenga far casa secondo me sì pensiamoci però sì danza ancora, 5-4, posso fare casa 3 faccio casa 3 benissimo direi 3 e 1 3-6 3-2 4-3 direi 3 e 2 direi 3 e 2 direi 3 e 1 rientra allora allora 4 e 2 non devo tirare un 2 soprattutto non con 6 2 minuti 2 minuti e 50 2-1 tiro fuori due pedine doppio due doppio due direi 1, 2, 3 e 4 direi 3 e 4 oppure sì no due minuti e mezzo ho tirato fuori solo 5 pedine doppio 4 eccezionale ho vinto grazie a tutti grazie a tutti ok direi che non ho giocato male peggio di lui è normale benissimo posso essere contento